Cosa sapete sulla parabola? Sinceramente, un cazzo. Vi boccio! Giuro che quest'anno vi boccio! Siamo tornati a scuola. Siamo tornati indietro ai 25 anni. Ma com'è possibile? Ha detto te che vuoi tornare indietro. Tu l'hai invece portato pure a me. Papà, c'è ancora tutti i capelli. Questo si fa le canne. Ecco perché sono tornato nel passato. Giulia, l'ho invitata a ballare. Poi ci siamo baciati. Poi ci siamo sposati. Con le gammollate. E mi ha rovinato la vita. Se non mi metto con lei, non sarò più infelice, no? Seguiamolo. Eccolo lì. Dai, sei tanto carina, ma sei troppo piccola per me. Ma come ti sembra Don Cruz su Top Gun? Guarda che finna! Amore di mamma. A scuola si approfittano di te! Ma che fai? Fumi? Senza paghetta per un mese, sai? Dammela, paghetta. Ti ho fatto, ti ho baciato. Sto parlando con te, mezza sega. Fatemi tornare nel 2015. Sì, chiamami l'ambulanza. Ma un uomo normale in questa casa. Berpa sotto, non abbaglia, costa un poco. Non ho un po' di coglioni.